è tutto tenero qua c'ha le gambe dietro sono dure con me e poi fai il prosciutto e basta il prosciutto a me non mi interessa a me mi conviene fare le salsicce e carne il prosciutto devo aspettare un anno e poi se va male invece il prosciutto lo compro tranquillo non è mio inutile io non dico quello che non è mio i miei sono i conigli i polli i cinghiali e i maiali ti manca l'elefante? l'elefante? la giraffa bene dai ragazzi